Abbiamo fatto le nostre richieste, ma prima tra tutte la richiesta che noi facciamo è che la Corte faccia giustizia. Una richiesta unanime condannate padre Graziano. Alla vela del Tribunale di Arezzo, mercoledì è stata la giornata delle parti civili all'attacco del religioso congolese, accusato dell'omicidio di Guerrina Piscai e dell'occultamento del suo cadavere per il quale il PM Marco Dioni ha chiesto 27 anni di reclusione. Il legale di Mirko Lorenzo Alessandrini, rispettivamente marito e figlio di Guerrina, ha concluso la sua arringa lasciando la valutazione del danno alla Corte d'Assise. Io ogni volta che tentavo di quantificare per me era assolutamente sproporzionato e quindi ho chiesto una condanna generica al risarcimento, quindi non è che non ho richiesto il risarcimento. Ho detto loro di quantificarlo e di condannarlo ad una provvisionale. L'avvocatessa Rinaldi, che rappresenta nel processo al frate congolese le nipoti della Casa Linga, ha presentato la propistanza alla Corte d'Assise non pronunciandosi apertamente, ma sembrerebbe che la cifra si aggiri sui 100 mila euro. L'avvocato Petroncini parebbe inoltrato una richiesta per un risarcimento di 50 mila euro. Si tratterebbe invece di una cifra che oscilla tra i 100 e i 200 mila euro, quella inoltrata dall'avvocato Leonardi, che rappresenta gli zii e le sorelle di Guerrina. L'associazione Penelope ha invece richiesto pubblicamente un risarcimento di 15 mila euro. Intanto venerdì si apriranno nuovamente le porte del Tribunale di Arezzo per padre Graziano, sarà il turno delle arringhe difensive. Si avvicina dunque la sentenza in programma per il 24 ottobre, giorno in cui Guerrina avrebbe compiuto 52 anni. Io ritengo che l'impostazione accusatoria sia del Pubblico Ministero sia delle parti civili non abbia superato di per sé il limite del ragionevole dubbio. Noi cercheremo di introdurre una visione basata esclusivamente sugli atti processuali.